Ci risiamo, il porto canale di Pescara è alle prese con i bassi fondali per il mancato dragaggio, tanto che un peschereccio domenica scorsa è rimasto incagliato all'imboccatura del porto ed è ancora lì, come vedete dalle immagini di Andrea Berardinelli, in attesa di essere rimosso. I pescatori sono arrabbiati e amareggiati, c'è stata una riunione quattro mesi fa in cui si anticipava un dragaggio immediato, dall'ora nulla. Fondali bassi e pericolosi per i pescherecci in entrati e in uscita dal porto, tanto che molte imbarcazioni preferiscono andare a Ortona o a Giulianova. L'esperto di navigazione Giacomo Fanesi. A questa domanda proprio non posso rispondere a che punto è il dragaggio, perché tutti quanti ci dicono sempre prossimo mese, prossimo mese, prossimo mese, però non si sa quale mese e di quale anno sarà. Il problema è uno, che il fiume, essendo fiume, quindi porta sedimenti e questi sedimenti dopo un po' vengono depositati sul fondo. Quindi il fiume Pescara è stato sempre dragato, c'è sempre stata una draga fissa che in realtà continuamente dragava. Il problema ancora più grosso è che adesso i pescherecci non sono più quelli di una volta che hanno un pescaggio di massimo due metri. Oggi ci sono pescherecci che raggiungono dei pescaggi di quattro metri, infatti certi già stanno a Ortona. Ora, con i lavori che bisogna fare sulla soffolta che hanno iniziato anni fa, logico che il fiume deposita tutto, sia alla darsena della Dica Foranea e sia lungo la canaletta del fiume stesso. Di conseguenza, se noi non ci diamo da fare per il dragaggio, questi pescatori resteranno ancora intrappolati nella propria casa, come è successo anni fa. Se vi ricordate, 7-8 anni fa è successa la stessa cosa. Ci sono problemi per i pescatori, difficoltà in uscita e in entrata anche di sicurezza a questo punto? Ma principalmente di sicurezza, perché in realtà, siccome si è creato soltanto una piccola canaletta per uscire, immaginiamo che chi entra e chi entra, a parte che c'è un rispetto, loro si chiamano tra di loro, sto uscendo, sto entrando e va bene, però adesso non ci sono tutte quelle nebbie che si usano, ma in caso di nebbia, sì, ci sono le radio, c'è l'AIS, la strumentazione c'è, ma c'è sempre, come si dice, l'errore umano che può accadere, come è accaduto anni fa con un peschereccio, come stavano entrando in due, uno andò a finire sugli scolli della cima del molo, dell'estremità del molo. Quindi questo porto, che ci vogliamo fare? C'è qui il porto canale, così come è fatto Pescara, secondo il mio punto di vista, non può essere per le grosse navi, il porto di Pescara è un porto, peschereccio di porto, allora sì, l'importante è che magari si faccia ritornare una nave per la Croazia. I pescatori e il presidente dell'Associazione Armatori, Francesco Scordella, chiedono soluzioni rapide, prima che si torni a un film già visto qualche anno fa, quando sulle acque del fiume si poteva camminare, ma per i marittimi non è questo il miracolo ora. Il miracolo ora sarebbe un dragaggio definitivo.